Come durare di meno a letto? Tanti uomini hanno proprio difficoltà a raggiungere l'eiaculare e quindi stanno un po' troppo tempo. Questo potrebbe portare la partner facilmente ad annoiarsi, a rompersi le scatole. Se è una problematica che hai da tanto tempo e arrivi proprio a non eiaculare, devi rivolgerti all'andrologo. Di norma, se hai difficoltà a raggiungere il culmine, è perché ti sei abituato troppo allo stesso tipo di stimolazione, sia quando ricorri all'autoerotismo, sia nel rapporto sessuale. Cioè ti sei abituato alla stessa identica manualità, agli stessi stimoli. Sei incappato in una sorta di routine che culmina proprio in questa difficoltà, non riuscire a velocizzare il piacere. E quindi la soluzione è quella di iniziare a diversificare il tuo piacere, il tuo tocco. Tristimoli interessanti possono essere gli audio erotici. Tutte queste cose messe insieme vanno a creare nuovi percorsi neurali di cambiamento. Perché tu, fino ad ora, sei abituato probabilmente solo a un certo tipo di situazione, di stimolazione. Quindi bisogna creare nuove cose. Perciò sperimentare di volta in volta sempre nuovi modi per stimolarti e per rendere più stimolante lo stesso incontro intimo.